Abbiamo provato a ricostruire un caso particolare che è quello di Isochimica di Avellino, che è un caso estremamente grave e importante, anche quantitativamente, perché da Isochimica di Avellino è transitata praticamente l'intera flotta, vagoni e locomotori di ferrovie dello Stato per la decoibentazione, condotta senza mascherine, senza nessun dispositivo di protezione di alcun tipo, in condizioni veramente impressionanti, accanto a un asilo nido, a una scuola media e a un campetto di calcio, quindi è un caso veramente emblematico e nascosto. Per seguirlo, io con il mio gruppo di ricerca, URIT, abbiamo dovuto improvvisarci quasi investigatori, perché la verità era appunto molto nascosta, non a caso il libro si intitola Il silenzio della polvere. Nel girare l'Italia, ormai in questi mesi, dopo l'uscita del libro, mi sono reso conto che il problema amianto è un problema di una gravità e di una diffusione assoluta.